la sandoria dall 85 al 94 ha vinto uno scudetto quattro coppe italia 1 2 3 e 4 una coppa delle coppe e una supercoppa italiana mancini boscov vialli al caraschela omo kamel takam mancini le boscov e vialli a origine i kicker e italia cupa sede e king general de bir kere champion league finale katol da malesef o final del barcelona casca web leader finale che è bit a ma a nese man neca dare il footballer dunia è stato e quest'anno è chiaro che noi cercheremo di ottenere una ottima posizione nel campionato di serie a e anche di poter aspirare la vittoria della coppa italia un bel bambino di perno jama oh ok ti sei tutto bene è tutto bene tutto bene io sto lavorando grande io non ho la però non ho la vanno vanno TITANO! TITANO! JAPA! Anche da già! Non puoiare! Tu non trovi da Brasile! Gatti vivi! Voi sapere qual è il VEDERSON? No, ma anche il VEDERSON! Posso fare un VEDERSON? Posso fare un VEDERSON? Posso fare un VEDERSON?